www.feyyaz.tv Vado a casa, ma mangio tre o quattro lire bucadini. Buongiorno. Salamelech. Salamelech a chi? Salamelech. Lei è fratello dello svizzero di fuori? Può essere. Mi madre era una che viaggiava un sacco. Se volessimo entrassimo, si potrebbero pure a Comodorno. Preguita sia. Salamelech. Salamelech. Si accommite, no? E sua eminenza? Non lo vado a chiamare subito. Si accommite, no? Bella guata. Sua eminenza è il gran Camerlingo. Mario Hicchè è le venturi delle frattocchie. Sia lodato, Gesù Cristo. Andiamo bene.